E' molto bello questo circuito nel finale, in l'ultimo tour di Svizz, perché c'è troppo e molto bello, è molto bello il mio finito con il vincere. Mi ricordo molto bene perché è la prima vittoria dopo la mia periodo non buona, perché ho troppo e sono felice di vincere in questa tour. Sono molto felice di rinunciare in questa tour perché è organizzata molto bene e è molto importante per la moglie. No! 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 No!